Vi starete chiedendo che cosa ci faccio a bordo di un cammello. È una lunga storia. Da dove volete che inizio? Ma allora, anzitutto, ho iniziato il Giro del Mondo. Il mio personale Giro del Mondo è iniziato un anno e mezzo fa. E non ero qui sul cammello, ma ero in Turchia. O meglio, prima in Bulgaria, poi in Turchia, poi partito alla volta della Colombia, il Messico e alla fine la Repubblica Dominicana. E da lì, dopo tutto il lockdown, eccomi qui, in Egitto, sopra un cammello, con la Mirella, lo diciamo. Come from Italy. Come from Italy. Italia 1. E il nostro amico Italia 1. Eccola qua. Nefertiti. Allora, in molti video ci vedete andare in giro per il mondo e dite, ma questi che cosa fanno? I vlogger? Cosa fanno? Non lavorano? Certo che lavoriamo. Diciamo che non lavoriamo tutto giorno. E diciamo che abbiamo scelto di viaggiare, che è la cosa che piace di più a tutti. E nonostante le difficoltà del lockdown, siamo riusciti comunque a viaggiare. Nel periodo del lockdown stavamo tra la Repubblica Dominicana e poi, lasciati lì dieci mesi di storia, siamo venuti qui in Egitto. Qui potete vedere le piramidi di Gisa. La prima è stata costruita con 5 milioni e mezzo di stone di rocce, la seconda con 3 milioni arrotti e l'ultima con un milione di stone. E poi vi dirò che cosa faccio. Dunque, chi ha costruito queste piramidi detiene il segreto di come sono state costruite, di ciò che c'è dentro le piramidi. E quindi dovete sapere che tutti quelli... Adesso prendo un po' il timbro del figlio di quello che fa i documentari. Mitico! Come si chiama quello che fa i documentari? Ah, non mi ricordo mai. Che sostanzialmente... Come si chiama quello che fa i documentari? Dai, quello che dico sempre. Marta! Piero Angela! Prendo il tono del figlio di Piero Angela. Quindi, dicevamo che loro custodiscono i segreti e quindi alla fine venivano tutti uccisi bellamente. Incredibili, 5 mila anni e più sono passati da quando queste piramidi furono costruite. Ancora si trovano, diciamo, le mummie, si possono visitare. Adesso qui hanno aperto il nuovo museo del Cairo, che è un po' in ritardo per via della fase della pandemia, ma insomma riaprirà a presto. Aprirà per la sua prima volta presto. Però c'è il museo del Cairo che è già attivo da anni. È l'unico museo costruito per essere un museo, quindi non è nato, diciamo, come palazzo e poi usato, adibito a museo, ma poi è stato costruito per questo. Anche se moltissime cose, lo so, che ce le abbiamo noi a Torino, oppure se le sono trafugate un po' in tutto il mondo. Però insomma l'Egitto sta qui, non dimentichiamocelo. Salutiamo il nostro amico Maradona. Ma questo cammello c'è un occhio solo. Oh mio Dio, c'è un occhio solo. Povero. Eh sì, c'è un occhio solo. No, è uno sinistro. Ma sembrava che avesse il buco. No, correggiamo immediatamente. Ha due occhi, meno male. Ha un buco sopra che sembrava che fosse un occhio solo. Allora, veniamo a che cosa facciamo. Allora, facciamo un mestiere che, voglio dire, alla fine non è che l'abbiamo inventato noi. C'è da tanti anni, esiste da quando si iniziò a fare la contrattazione sul riso in Giappone. Pensate, indovinate che lavoro è? So che molti di voi dicono che questo non è un lavoro e dovrei trovarmene uno. In realtà è un lavoro. È un mestiere molto antico. Alcuni dicono che non è un lavoro e che è più simile a una bisca che è un lavoro. Non si capisce perché. Tutto ciò che produce un reddito è un lavoro. Può essere più o meno speculativo, questo lo è, speculativo, ma è un lavoro, accidenti. Trading online. Quindi sui mercati finanziari io trado tutto quello che si muove. Forex, indice, azioni sul mercato americano. Tutto quello che si muove. Abbiamo comprato bitcoin. Tutto quello che si può tradare io lo trado. È dal 97 che ho fatto questo, ho avuto le mie disavventure, ma oggi è solamente grazie a questo che giro il mondo e posso dire che faccio trading online.